bene ragazzi vi dobbiamo ricordare il sentivo revelations quindi avanti e siamo scusate e siamo negli episodi precedenti dove moneste nell'ottavo capitolo questo rumore è da sedia se vedete siamo contro dottor arden che ama recitare dante e schiacciare i tasti che non hanno scritto sopra lasciamo che il fuoco del cielo purifichi la terra queste soluzioni unilaterali non farete altro che far nascere un'altra velcro o magari dieci ecco il punto dolente sono i gruppi come quello che giustificano la nostra esistenza sono i gruppi come quei ok basta scusate devo spostare un po' questa cosa ok tutti in pericolo se vi attacchi corpo a corpo sono i nemici che vaccinano quartiere generale no sono inglese non sono cieco sono inglese avete capito la battuta? perché della repubblica cieca cioè capito? le faccende in sospeso possono solo peggiorare le cose ci pensi bene direttore o se ne potrebbe pentire non ho detto un cazzo potete ripetere freman boom stacco di immagine su dei piedi su quattro piedi guardali che cosa è epica eh parker parker save ok via 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 wow 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 mi vaccinano le tette wow acqua nelle mie pori corporei ok armi ce l'abbiamo col cazzo ho capito andiamo di qua ok merda 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 va tutto in malora parker ed è tutta colpa tua voglio il mio fucile a pompa fanculo sfondala voglio il mio fucile a pompa non pensavo che il bazooka andasse a prenderne il po' a posto come si fa a salire di qua no cazzo gile arrivi arrivaci che ti puoi aggrappare niente vaffanculo parla qua così almeno t'affogli eh di la wow 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 piano uh cosa c'è lì cosa c'è colpi per il magnum per la magnum vaffanculo di qua 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 è chiusa dall'altra parte fa un culo ok di la c'è una scala la scala della salvezza olè vai salvi ok eeeh uh la c'è qualcosa colpi per il mitra pistola davvero parker non sei un genio però qua ci c'erano delle cose che volevo raccogliere mi sembra guarda parker che è ancora lì esatto c'erano delle modifiche accessori di modifica e qua posso dire quale qual è il mio ecco lo sapevo ho perso il fucile ho perso il bazooka il fucile a pompa cioè porca puttana non potrò mai più giocare è impossibile senza erba verde ce l'abbiamo 5 ok wow 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 ti prego fammelo prendere danno 3 eccolo siiii allora diamo diciamo così 130 158 8 ma minchia ma fa schifo quella quella che sto usando quindi a questo diamo no allora potenza c'ha 192 x 6 io ti tolgo questo e ti metto questo eh infatti e vabbè a te allora darò danno 2 ok va bene ok via 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 è fuori uso via 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 esatto 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 lì c'è un puntino giallo si lì c'è un puntino giallo qua qua sulla mappa mi indica che c'è qualcosa qua perché cazzo è il puntino giallo perché mi indica che qua c'è un qualcosa da fare qua no non risponde qui eh allora moriremo perché è la mia sentenza al riguardo ah ho capito ho capito tutto ragazzi tranquilli c'era quel passaggio che prima era bloccato da quella parte ma che ora si può esplorare vediamo cosa c'è qua magari c'è una porta un qualcosa no qua olè sono un genio baby sono un genio baby ok e ora gira il suo culo stanno mutando verso la salvezza vai direi che è più furbo andare in su ragazzi sali ok c'è un punto dove si può salire sei no ma che cazzo g g g g g g cazzo parker smettila non ti faccio un pompino ne parker ti massacro la famiglia oh di qua no davvero vaffancona oh di mio lavoro giuuu allora eeeh uuuu di qua di qua allora suppongo ok di qua salvataggio vai ma dai ma si dai ma si dai no tranquillo tanto una cosa semplice nooo non so come si usa il coltello non me lo ricordo vaffanculo non si apre troppo deformato la scusa più stupida gil di che non sei capace basta di qua no uuuu una sirena deforme quella quella si che è deforme no non te la prendere con me corri sto morendo non ho più aria no uuuu qui c'è una porta scherzo aia non adesso please qui c'è una porta dai che c'è una porta eh vaffanculo allora così mi sembra un po' troppo facile comunque mi è sembrato di vedere una porta lì ma ok non posso e vabbè è morta come facevo? grazie gioco ti voglio bene si dato che sei così corretto con me gioco lo sarò anch'io sei fortunato che non c'ho la copia fisica che ti ho comprato su steam se no ti investivo con uno schiacciassassi con uno schiacciassassi via sassi via eh vabbè andiamo di qua capito? capito ma me ne sbatte cioè sta qui è troppo deforme affanculo devo andare di qua? e poi dove? di qua? non lo so dove che devo andare forse si forse no non si sa boh aria aria no rientra un secondo ho visto un qualcosa lì eccolo 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 ma ma fa un culo 5 colpi per la pistola mi ci pulisco il culo quando è pulito ok vai sal oh merda questo era il posto terribile però pare che sei pronto c'ha un ritardato quello lì ok scendiamo ah è vero però c'è l'acqua quindi il mostro ci fa una gran sega giusto allora di qua? cazzo scendi un po' di più si forse si di qua di qua? si può salire o è solo un posto per prendere aria? è solo un posto per prendere aria ci hanno ingannato pare che ero ma ora di qua? non ho idea si forse ora a destra ecco come si perdeva questo ok ora di qua? no 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 non ci provare animone della minchia di qua basta colpi per la pistola ragazzi wow dove sto andando? di qua davvero? aria? eh ci mancherebbe salvataggio siiii devo andare di qua non ho capito non ho capito girati Jill forse di là c'è l'aria aspetta dai che di là forse c'è l'aria si aria 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 è tutto chiuso eh? si vai giù sembra che stiamo facendo altro prendi aria Jill ok ora vai giù cosa avete capito? un corso di snorkeling no? cosa andate a capire? sali che cazzo? non mi aspettavo vai un po' su vai un po' di più ok siamo quasi giunti questo è il posto dove eravamo stati inchiusi si c'è anche una minchia di sirena ovviamente non devo andare di là quello è bello di qua? si però si vede benissimo che era stato sbagliato è dalla parte opposta che devo andare aiaaaaa panculo bravo col te e vabbè allora c'è c'è dai facile qua ma c'è assurdo ragazzi è assurdo così eh? questo è proprio un errore del gioco perchè non può fare così non vale non c'è un cazzo qua sotto perchè mi perchè mi fa andare qua? vabbè ormai sono morto tanto mi manca l'aria mi manca l'aria si si è morto si parker a quanto pare è un pesce lui non gli serve a riprendere aria si 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 mi fa ricominciare da qua e siamo dove qua? nooo nooo ma fate solo il salvataggio prima che riprendessi l'aria porca puttana girati e vai mi chiedo se non sapesse nuotare così bene e ancora mi chiedo se non avesse la capacità di tenere il fiato per 48 ore eh sono sono eh vaffanculo te sono interrogativi anche questi eh? è uno dei misteri che devono essere svelati a fine gioco o no? si? o no? si? o no? ok passiamo di qua passiamo lontano vaffanculo fottiti 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 via parker parker stai lì e fai da escava vai di qua veloce veloce vai continua continua qua sotto magnum vai magnum dai continua cartucce per il fucile ok almeno non sono colpi per la pistola lì c'è aria 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 ok vai ti prego basta con sta parte è terribile solo attacco è terribile qua 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 fucile vai continua sta porta chiusa non lo è più olè olè e ora? aria cosa ci ha servito ciò? siamo ancora qua parker ma ti fotto il cane cosa ci ha servito dopo questa cosa? parker è tutta colpa tua è quello il bello sei tu che mi hai convinto ad andare di lì andiamo di lì vendono le figurine di iron man a metà prezzo perchè avrei dovuto andarci solo per questo motivo? no di qua non eh no di qua è da dove è incominciato tutto parker siamo fottuamente ritornati indietro lo sai vero? lo sai cosa ci hai fatto fare vero? e allora dove cazzo bisogna andare adesso? cos'è si è aperto la porta così per pura magia parker dammi più informazioni forse questa paura è aperta vediamo aaaaaaah ecco perchè ma cazzo aspetta parker non ho capito una cosa perchè siamo siamo ancora qua? sali cioè scendi e ora sali ok bravo adesso cosa c'è che non va qua? non è che abbiamo raccolto un qualcosa di cui non ricordo l'esistenza? ah questo qua che non va ok ma qui anche è tutto sempre fuori uso dove cazzo è parker? non era entrato dove è parker? parker ma che cazzo? allora niente scendiamo e arrangiamoci che devo dire boh dovrò andare là e fare qualcosa di oscuro andiamo parker fatti coraggio che qua o si muore o si muore a quanto pare vai dai giri veloce come una faina e astuta come una fenice dorata della vendetta incontrastata sanguinolenta vendicativa e imbattibile scendi ok allora ancora questo tunnel e poi entriamo nella zona dove occorre fare qualcosa anche se non so bene cosa dove cazzo sono scritte le missioni? sfuggi sfuggi e sfuggi mi sembra un po' generico cioè ho capito che è di qua che devo andare però forse su? ancora più su? sta leva no 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 le sirene no su vai su gil gil vai su su c'è la luce su c'è la luce ok una scaletta 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 non si può salire eccolo vai su prima che parker ti gazzano il polpaccio si si eh già voilà ok ricevuto ti aspettiamo si ok a presto chiudo dove si va adesso di qua o di la? ehhh forse di qua? voglio voglio vedere in che aria vado passando di qua fanculo a me stesso Perché la leggo così male Sta mappa E allora andiamo di là Ma di là c'è il bestione incazzuto Incazzato Incazzoso Cazzone anche magari Spero di no Comunque tra poco devo anche stoppare Oh wow 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 Ah pistola Ma cagare Giù Ok stoppo qua Ci vediamo nella prossima parte Mi piace in commento Dovete farlo solo con questo video Ciao Ciao